sai che mi piace sto gioco è un po io su questa serie metto un 30k aspetta però fammelo tipo discovery mio nonno mi ha insegnato mi fai una zero con gli straccavoli e la presentiamo al brand questa la vendiamo a national geografix già che national geografix con l'ex finale già ora già 10k in meno e ci siamo su youtube ciao youtube ci abbiamo le telecamere abbiamo il canale 1 dammela 2 ciao 2 dammela 1 ok se puoi smettere questo momento di fumare va bene ho pregato si spieghiamo un po cosa succede qua perché noi chi siamo siamo edo e fede siamo due creativi che con la creatività ci pagano le bollette fondamentalmente abbiamo un podcast da cinque anni abbiamo più o meno pubblicato 300 e 40 episodi una cosa del genere abbiamo intervistato centinaia di persone però questo è diverso questo è un format che si chiama idee da incubo vuoi spiegare come funziona da una parte ci siamo noi due che ci sfideremo a colpi di idee tre idee a testa e nessuno conosce quelle dell'altro di fronte un giudice con 250 fish che potrà puntare sui progetti più convincenti o distruggerli decretando un vincitore un po shark tank un po x factor un po amici di maria ma peggio c'è un po di c'è un po di format e poi c'è un po di ludopatia ci piace insomma che ribaltare o confermare risultati insomma c'è tanta roba ringraziamo dude e fondazione diudo per ospitarci in questo posto bellissimo che ha un nome bellissimo faremo tra l'altro delle cose molto belle insieme le stiamo preparando e ve ne parleremo nelle prossime puntate c'è cose col pubblico mamma mia grazie dude siamo pronti a partire andiamo pronti ti spacco vai questo è idee da incubo con il cuore cazzo dietro il cuore allora il tema di oggi è storytelling quindi come potevamo non chiamare questa persona non potevamo che tra l'altro quando c'è una cosa nuova in questo podcast lui c'è se noi gli rompiamo sempre le balle primo primo ospite di hacking creativity poi all'evento all'evento è venuto e adesso nuovo format eccolo qua giornalista podcaster storyteller scrittore amico diciamolo pavolo trincia ciao pavolo grazie grazie per la terza volta io sono molto molto preoccupato da questa cosa amico perché questa è una gara ok io vorrei che su questa cosa no perché stai dicendo che non è un professionista no sto dicendo che tu sei un po stai guardando con me stai accusando su queste cose non si scherza va bene allora stai facendo come al solito un miliardo di cose ok te ne ho uscito rigopiano sì sì ok e però è anche pazzesca complessa bella pesante si è infilato in un bel casino e pure il libro e pure il libro eccolo io l'ho letto gli ho scritto gli ho scritto no adesso non è per scusa posso tu capisci che io ho le prove capito ho sottolineato ci sono dei ragionamenti ti ho scritto dei messaggi tu non l'hai letto io ci tengo a non distruggere le opere altrui l'ho letto con molta delicatezza io posso aprirlo a caso e ricordarmi di quello che pablo ha scritto guarda l'importante che ci sia da fare dell'hacking un po di hacking se c'è da fare un po di hacking io sono contento allora l'abbiamo fatto come nascono le storie ok facciamo il momento per uno bruno vespa perché è importante perché ci sono tutti questi segnetti qua di fede perché effettivamente questo è l'ho scritto poi a pablo è il primo manuale di storytelling che mi ha fatto piangere è vero e è una cosa incredibile perché sei riuscito a fare una cosa difficile cioè a dare a raccontare come tu diciamo costruisci le storie che se no pot che se no tu fisico eccetera però innestandolo sulla tua vita personale e questa è una cosa non facile per niente quindi se ci vuoi dire in un secondo come hai fatto a superare la crisi iniziale che non ti è scritto non mi piace scrivere e sei riuscito a fare una disperazione perché a un certo punto mancava tipo una settimana alla consegna ho detto no adesso io non ce la farò mai e sai quando parti ma hai scritto una settimana no 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 ho chiesto ovviamente mi ho fatti abbastanza sclerare mi devono aver odiato però sai quando per disperazione a un certo punto ti ricordi la tv no quando hai otto ore per fare un pezzo e parti in automatico e poi a quel punto anche flusso di coscienza e poi parti sempre da te stesso e non sbagli molto bene molto bene io direi che dobbiamo iniziare la sfida mi piace sto gioco è vero perché un po scatena poi le fiche allora proprio rapidamente le regole io sono un produttore tu sei un produttore sei esatto sei uno uno scouting c'è il grano c'è i 250k 15 mila euro da investire in ipoteticamente sei idee sono tre round un'idea a testa e diciamo è una meravigliosa scusa per parlare poi del mestiere dello scrittore dello scrivere del narrare un po teso tu sei un po teso insomma però noi possiamo andare vuoi andare tu o voglio vado io a scegliere pablo pablo chi vuoi che inizia una bacia cico contro e c'è te su edo 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 vai vai scusami tanto devi dire genere cos'è un po che sa dopo fix cosa podcast storico ok ho scelto intanto il genere storico ho fatto un lavoro per capire ci sono delle storie in italia magari con una forza che non sono state ancora raccontate quindi non è una cosa inedita magari è un fatto un personaggio adesso ve lo racconto che si conosce ho detto beh possiamo ripescarlo raccontarlo in maniera differente per farti entrare caro produttore in questo pitch ho fatto il trailer prego ti è tu l'hai fatto il trailer che paraculo che paraculo scusami uno si prepara il paraculo provo un attimo contenuti che senti che voce tra l'altro aspetta è un contenuto fammelo fare non prendere il live è sì ma devo anche leggere è scritto anche piccolo vado una stretta di mano in un deserto lontano un sussurro in un corridoio del potere chi era davvero l'uomo che osò sfidare i giganti del petrolio il 27 ottobre 1962 un aereo si schianta nelle campagne di bascapè in lombardia a bordo c'è enrico mattei il presidente dell'eni l'uomo che ha sfidato le sette sorelle del petrolio mondiale solo pochi frammenti del suo corpo vengono recuperati ma il mistero rimane mattei trasformò un'azienda fallimentare in un imperio energetico e dietro la sua ascesa fulminia si celavano ombre nemici chi voleva davvero fermarlo aspetta che sale la musica sono andato un po veloce l'uomo che sfidò il mondo enrico mattei coming soon domande ne si possono fare certo e non ho capito è sono quanti episodi non lo so un po no nel senso sei di solito sei un numero buono su caso mattei o solo su di lui io perché ascoltandolo io pensavo che erano delle serie storiche ok tipo punto caso mattei o altre storie italiane invece sono ma se se preferisce si può anche cambiare nel caso allora siamo aperti un'antologia di casi ala den carlin cioè scegli non so scegli l'italia e dici l'antica roma la repubblica non mi ricordo se erano 100 anni della repubblica oppure enrico mattei oppure il medioevo chiaro pure la guerra cioè e fai delle mini serie storiche allora sulla storia mi trovi abbastanza insomma c'è un debole per cui e secondo me è proprio un tema mi piace anche questa impostazione un po' tamarra però no però mi piace l'idea di un prodotto anche un po pop che ti spiega bene la storia ed è proprio la storia è perfetta come come tema per i podcast cioè proprio una cosa che secondo me può fare breccia se è scritto bene poi ovviamente lo dovrei posto che scritto bene che ci sia una bella voce che racconta bene eccetera a me questa roba qua io che sono caga cazzi a me questa roba piace quindi fai la tua mossa pablo sei progetti mi ho detto sei progetti esatto allora sì tu mi hai detto che è una serie quindi l'unico punto debole che è un tema forse molto stavo pensando maschile podcast è molto femminile però però barbero spacca quindi non facciamoci venire non mi alla fine va bene io su questa serie metto un 30k ma parti forte dove li mettiamo qua vicino all'idea vicino all'idea si parte in salita ragazzi ok si parte in salita eh ma sulla storia eh lo so sulla storia domanda io ti ho fatto il trailer come ti presentano in che forma ti presentano dei podcast quando ti e qual è la forma su te più giusta slide a me quelli che hanno presentato un pezzo di carta con due righe ah sì ah no io tiravo dietro chiedi soldi su una striscia di carta cioè quanto uno deve lavorare approfondire arrivare da te beh devi arrivare con un bel trailer scritto ci devi aver lavorato ci devi aver investito un pochettino ci devi aver messo almeno io una settimana dieci giorni di lavoro pieni li voglio sentire cioè voglio ci voglio insomma mi devi far assaggiare il prodotto un trailer fatto bene di cinque minuti che mi fai sentire la voce chi è perché poi chi è sei tu è un altro è una voce femminile boh vai a capire più è personaggevole quindi più ci si può costruire un personaggio e secondo me più ha dei punti di forza e poi voglio sentire un po' la scrittura neanche non so scaletta delle soggetti delle singole puntate è un documento si però mi interessa sentire cinque minuti di fammela assaggiare cioè non farmi tanto vedere il menù fammi assaggiare un piatto voglio vedere come cucini ok e ti è capitato che qualcuno venisse con quelle due righe un po' stropicciate e tu l'hai rimandata a fare i compiti ed è tornato e hai detto uh mi hai convinto oppure non ti è mai successo no perché chi arriva con le due righe non vuole rischiare non vuole non lo so sai bisogna metterci bisogna crederci bisogna portare e presentarsi tu alla corte del re non io però quando andavi a fare visita a qualcuno da un governatore o da qualcuno ti presentavi con un regalo quando vai a cena da qualcuno ti presenti con un regalo con qualcosa quindi devi fare lo stesso cioè anche perché mi stai chiedendo di comprartelo mi stai chiedendo dei soldi e quindi qualcosa mi devi dare certo no no molto molto chiaro va bene a questo punto sono molto in difficoltà perché vedo 30k che si sono volatilizzati però insomma vado allora caro Pablo tu sei arrivato qui siamo a Milano traffico un po' di smog insomma la vita qui non è proprio facilissima però ci sono persone che hanno scelto l'opposto che sono gli eremiti e quindi questo podcast che è un podcast di 8 episodi da 45 più o meno si chiama Fugamundi e l'obiettivo di questo podcast è andare a indagare il perché queste persone hanno deciso di salutare in qualche modo la società di andare a vivere magari in montagna in posti molto molto isolati molto spesso appunto per motivi spirituali ma non solo e diciamo Lost ci porta in queste storie però lo fa con un punto di vista diciamo abbastanza preciso e cioè bisogna per forza lasciare il mondo per essere felici e soprattutto che cosa gli eremiti possono portare a livello pratico a quella persona di Milano che vive in una situazione totalmente opposta mi piacerebbe mettere questi due opposti a confronto per poter poi capire effettivamente dove e come questi due mondi possono diciamo contaminarsi in meglio a vicenda allora avrei bisogno per investirci di qualche informazione in più cioè non mi basta se è questo mi servirebbe intanto sapere due o tre storie di chi parliamo parliamo di uno che faceva il manager poi a un certo punto a 60 anni quasi 65 anni quasi in età da pensione ha detto vabbè piglio lo scivolo e vado a ritirarmi che quindi non è un vero eremita cioè per me il vero eremita è uno che fa una scelta radicale a 35 anni molli tutto e te ne vai a vivere davvero come eremita però e che cosa facevi prima e che cosa ti è successo quindi voglio capire che storie ci sono perché poi alla fine la differenza la fa quella roba lì cioè il tipo il tipo di storie così non riesco a valutarlo e il secondo punto secondo me a suo sfavore in termini di business mentre la serie storica è un qualcosa su cui secondo me tu puoi costruire una serialità è un brand perché se funziona e se va bene poi ce ne puoi fare altre e a quel punto veramente ti costruisci la tua pipeline di prodotto e quindi a quel punto diventa veramente un po' come barbero questa cosa qui è un po' fine a se stessa e rischia di nascere e morire con il suo prodotto magari fa anche i suoi ascolti però ho paura che non riesci poi tanto a monetizzare o a trovare uno sponsor diventa molto di nicchia ok per cui mi verrebbe da dire che è troppo vago al momento per metterci per metterci nei soldi io arriverei in genere sempre con delle storie almeno dammi due o tre storie ma che veramente mi stupiscono cioè io qua essendo già un po' più debole di partenza devo vedere i botti e allora ricapitoliamo la prima idea di Edo l'uomo che sfidò il mondo ha raccolto 30k la prima idea di Federico Fugamundi 0k ecco qui c'è un tema a cui possiamo legare nel tuo libro tu parli di personaggi serie A serie B serie C cioè tu dici se devo fare un podcast risa claps se non ho la madre o il fratello quindi personaggi serie A nel senso che uno che ha vissuto da vicino la storia ma ho il giornalista l'esperto non vado neanche avanti come fai a valutare nei tuoi podcast che lavoro c'è per individuare questi personaggi decisivi e convincerli anche a parto dal presupposto che questo è come io lavoro perché se tu ascolti indagini di Stefano Nazzi non intervisto nessuno intervista persone della cerchia C quindi gli esperti che non hanno avuto a che fare col caso ma il criminologo o il tecnico e si può fare quindi va benissimo io lavoro invece cercandomi innanzitutto le persone i familiari più ristretti o comunque le persone che sono state colpite o che erano sulla nave che affondava o che erano in quell'hotel quando è arrivata la valanga tutte le persone che erano vicine al nucleo della storia quelle sono le persone tra virgolette di fascia A quindi i testimoni diretti che hanno ovviamente le storie più forti più impattanti più calde nel B ci sono le persone che conoscono bene il caso perché l'hanno studiato o perché ci hanno indagato avvocati poliziotti giudici tutte persone anche soccorritori nel caso però persone che non hanno vissuto quell'evento direttamente e nel C ci stanno gli esperti generici che possono parlare di quel caso come di qualsiasi altro caso in questo caso basta semplicemente fare una lista delle persone che hanno vissuto sulla propria pelle quell'evento particolare i casi in cui ti sei tirato indietro perché non sei riuscito a trovare personaggi di successo sì un sacco di volte sì sì ma anche i tempi delle iene magari ti volevi occupare di un caso chiami la persona di riferimento il padre della vittima o chissà chi e quello ti dice no grazie noi non parliamo perfetto allora faccio un passo indietro avete sentito il casino che è successo con la serie di Yara Gambirasio loro hanno fatto hanno fatto questa serie senza la famiglia di Yara ed effettivamente era un qualcosa che mancava perché oltretutto intervisti bassetti che è stato che è ritenuto colpevole con tutti i dubbi che puoi avere però non avevano le persone direttamente coinvolte che erano il più difficile la più difficile da convincere ti ricordi? beh tutti hanno un po' di con tutti devi un po' lavorare perché non è che ciao sono Pablo Trincia ah sì sì perché magari devono parlare Gildo Claps Gildo Claps mi aveva detto di no Gildo Claps la prima volta che l'ho chiamato mi ha detto no grazie siamo stanchi siamo stufi però poi lui in quel momento era combinazione era accanto al suo migliore amico che è un farmacista di potenza che gli ha detto ma chi era al telefono? no un giornalista mi ha proposto per un podcast e questo gli ha detto ma chi è? e questo gli dice un certo Trincia e questo gli ha detto Gildo ma tu sei scemo quello ha fatto il dito di Dio no richiamolo subito quindi Gildo mi richiama mi dice ma sai che ci ho ripensato facciamo che è successo nel frattempo perché per me sai a quel punto la storia era andata vabbè ok pazienza peccato e quindi c'è sempre un po' di lavoro a volte un paio di telefonate ti vogliono conoscere si devono fidare a volte come mi sta capitando di recente un pochettino se sei conosciuto qualcuno della famiglia ti conosce allora è più facile però c'è un'altra cosa del libro molto interessante su questo argomento e c'è il fatto che tu metti l'accento su queste persone vanno incontrate beh il contatto diretto fa tutta la differenza nel mondo io cerco sempre di non scrivere mai sui social o via mail o via whatsapp cioè io cerco sempre di chiamare di far sentire almeno il tono della mia voce devono sapere almeno come parlo devono sentire l'essere umano dall'altra parte una mail o un messaggio sono qualcosa di freddo di meccanico e addirittura se ci si può incontrare ancora meglio quindi andiamoci a bere un caffè io mi faccio volentieri se una storia tengo mi faccio anche 5 ore di macchina per andare solo a bermi un caffè con una persona che poi magari mi dice di no però almeno ci ho provato e quindi per me è ok mi è capitato con il padre di un ragazzo marocchino in provincia di Brescia che era finito nell'Isis un ragazzino carino gentile un rapper di origine marocchina che a un certo punto era partito con l'Isis e non era più tornato a casa e io ero andato da incontrare il padre c'era un pesisto caffè bello lungo a chiacchierare due padri di fatto seduti uno accanto all'altro mi ricordo in questo bar al tavolino a raccontarci la vita lui la sua io un po' gli raccontavo la mia e poi dopo ci siamo risentiti dopo qualche giorno mi ha detto guarda ti ringrazio ma preferisco di no però tu quel contatto ce lo devi avere perché quello fa tutta la differenza del mondo perché se è forse è più probabile che diventi sì e quindi vedi ci vuole lavoro ci vuole lavoro ci vuole investimento ci vuole benzina ci vuole caselli ci vuole rischio devi rischiare un pochettino e quando ti dicono sì si è già creato un legame prima che ti facilita leggermente il lavoro dopo perché poi sono persone che ti hanno conosciuto ti sei aperto con loro sono aperte con te e a quel punto si fidano oppure ci hai parlato tanto al telefono siamo esseri umani quindi di fatto abbiamo bisogno di vicinanza abbiamo bisogno di interazione di interazione assolutamente certo io ho altre domande ma me le tengo per la prossima round vai secondo round yes vado io eh certo ok questa la vendiamo a National Geographic ok video quindi insieme sì già che National Geographic con la culax finale già guarda già 10k in meno no dirido National Geographic uè questo sogna miglio io esatto allora vado allora scusa c'è anche scritto questa la vendiamo a National Geographic il pezzotto di National Geographic allora tema in attualità largo tutto il mondo crisi climatica ok problema raccontarla con la scienza i numeri spesso dici delle verità hai delle certezze ma non arrivi al cuore delle persone no io mi son detto proviamo a trovare delle storie specifiche in modo da empatizzare e capire che realmente ok dobbiamo fare qualcosa per cambiare rotta serie di 6 puntate quindi un viaggio attraverso le vite di persone comuni che stanno vivendo la fine di tradizioni secolari a causa del cambiamento climatico io avrei un trailerino video sempre no è che la madonna National Geographic scusa questo è Altros vabbè ci facciamo ce lo immaginiamo in questo giro ma io ti fai tu il voiceover io faccio l'unica cosa è che occhio che è un trailers un grassetto io faccio il grassetto ok mi dai tu il là mi dai tu il là adesso esci dal corpo di produttore entri nel corpo di Pablo Trincia ok 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 facciamo un avvertimento prima di iniziare in un mondo che cambia troppo in fretta ci sono gesti che presto potrebbero scomparire per sempre mio nonno mi ha insegnato boccia no aspetta ti va di riprenderti quei talentanti no mi li sto guardando aspetta mio nonno mi ha insegnato a tagliare il ghiaccio questi inveno ok rifaccio scusami no aspetta aspetta rifacciamola aspetta però fammelo tipo discovery mio nonno mi ha insegnato a tagliare il ghiaccio e questi inveno potrebbe ok mi verrà da ridere sicuro vabbè rifacciamo in un mondo che cambia troppo in fretta ci sono gesti che potrebbero scomparire per sempre mio nonno mi ha insegnato a tagliare il ghiaccio quest'inverno potrebbe essere l'ultimo io non lo so questo vino è l'ultimo della nostra varietà centenaria il clima non ci permette più di coltivarla le farfalle monarca stanno scomparendo con loro se ne va anche una parte della nostra anima sei storie sei ultimi gesti un viaggio attraverso tradizioni millenarie che stanno per diventare ricordi l'ultimo gesto una serie che ci ricorda cosa stiamo perdendo e perché dobbiamo agire ora coming soon su National Geographic chiaramente se mi permetti ho fatto anche la locandina su National Geographic ah però un po' di AI sì vabbè togli le cuffie Pablo se vuoi così sei più libero ok però per rendervi l'idea di questi drammi ecco allora pro e contro valutiamo il pro e contro ovviamente il tema è quello il tema è di grande attualità il contro è che rischia di essere sempre un po' rispingente perché la gente non vuole sapere che il mondo si sta fottendo e che abbiamo il contagocce e i ghiacci e il vino e aiuto e migreremo tutti verso nord avrei bisogno anche lì un po' più dovendoci mettere i soldi un po' più di qualche dettaglio in più in modo da potermi innamorare ancora di più del progetto però diciamo ho già tre storie li ho già contattati tra l'altro Mikko in Finlandia esegue l'ultimo taglio del tradizionale ghiaccio sul mar baltico poi abbiamo Marie in Francia viticoltrice di terza generazione brinda con l'ultimo vino della sua famiglia è l'ultima a fare il vino Messico Carlos tour riserva delle farfalle osserva questo spettacolo di farfalle li ho già chiamati ma chiamane uno dei tre adesso adesso e adesso viva Carlos allora a me costicchia a me piace dovendo produrre una zero mi immagino che per produrre una zero fatta decentemente che quindi sarebbe un episodio in un paese andiamo vicini andiamo in Francia da Marie un 50k almeno ce li dovremmo mettere ce li dovremmo mettere ma io sono un infame e quindi ti dico guarda facciamo così 25 te li metto io e però gli altri 25 te li cerchi tu cioè questo è come funziona anche un po' il mondo spiegaci perché tu in un podcast io ti potrei benissimo dire se hai più 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 produttori diciamo beh si trova cioè trova un coproduttore che ti mette altri soldi e la produciamo in due io un 25k ce li metto mamma mia ragazzi sta sempre più dura sempre più dura sempre più dura 20 2 4 5 eccola dai favot su allora intanto vorrei insegnarvi una cosa vuoi chiamare a casa aiuto al pubblico no ho due domande all'attento che tu ti prepari pubblicità è uscito ce l'abbiamo ce l'abbiamo creativity mamma mia che cos'è questa cosa guarda 300 tecniche 300 tecniche per sbloccare la tua creatività tutorial rapidissimo come funziona molto semplice hai un problema creativo tanti ce l'abbiamo molto semplice chiudete un attimo gli occhi vi concentrate lo aprite a caso e tac mettiti dei limiti oppure lascia un messaggio per il futuro cosa sono crea la tua matrice win win e scrivi la tua lista di conquiste ovviamente di ogni indicazione esercizio c'è scritto come funziona un esempio e hackeriamolo quindi lo ribaltiamo esatto quindi vuol dire che alla fine invece di 300 ne metti a 600 di tecniche esercizi è molto bello molto colorato sta anche bene sulle scrivani è perfetto per iniziare il brainstorming uno inizia il brainstorming lo mette lì e poi lo apre va bene creativity in tutti gli store dateci un occhio classifica fatelo salire in classifica io una domanda volevo farla fai pure la domanda mondo podcast e serie c'è un po' spiegato qui le dinamiche che parliamo sempre di storie ma c'è anche un'economia intorno come funziona da chi vai a proporre ci siamo noi che siamo i creators poi c'è ci sono le case di produzione e poi ci sono i canali o i network tendenzialmente più o meno il mondo è quello esempi ce li puoi fare su case di produzione in italia dopcast cora adesso in televisione free mental piuttosto che magnolia magnolia chiarissimo catleia forse più cinema credo però sì c'è sempre quel mondo lì ci siamo noi creators autori registi podcast eccetera poi ci sono le case di produzione poi ci sono i vari canali o le piattaforme o a cui a cui vengono venduti il prodotto viene piazzato del prodotto finale io lì funziona che comunque tu creator tendenzialmente con le dovute eccezioni non vai dal network perché il network non produce il network dice mi piace ma me lo faccio io quindi troviamo insieme una casa di produzione che lo realizza che ha la forza economica che anticipa i soldi che fa i contratti che si occupa di tutta la parte amministrativa legale eccetera eccetera e a quel punto tu insieme alla casa di produzione lo create lo costruite insieme e poi si porta dal cliente finale che è la piattaforma insomma il processo più o meno è quello per cui però nel mondo del podcast secondo me è un filo diverso io oggi se fossi un podcaster indipendente non andrei dalle case di produzione io me lo proverei a produrre da solo e cercherei di di tenermi soprattutto il mio prodotto e di non venderlo e di non cedere assolutamente i diritti sono fondamentali cioè noi abbiamo una tendenza giustamente anche poveri noi poveri noi in generale autori creators categoria e non appena uno ci dà due spicci ci vendiamo facile perché siamo romantici perché non siamo business perché siamo innamorati del nostro lavoro e lo vogliamo vedere no? fuori nel mondo però cioè stai anche dando un pezzo di te a qualcuno che te lo sta pagando poco e che se lo terrà per sempre e che ci farà quello che vuole abbi invece il coraggio di creartelo tu metterci un po' di soldi tanto non è che ti devi indebitare non devi fare un'ipoteca sulla casa gestiscitelo tu gestisciti la creatività il visual tutto quanto producitelo da solo io se veleno non me l'avesse prodotto Repubblica me lo producevo io me lo caricavo da qualche parte veleno tra l'altro non avevi ancora il podcast non era ancora ascoltato tu non avevi quello storico pazzesco che è adesso hai dovuto combattere combattere sì perché avevo ancora quella mentalità lì cioè io andavo a cercarmi un cliente ma oggi se fossi un indipendente me lo creo me lo carico su Spotify ci investo dei soldi e vedo cosa succede perché poi magari domani arriva una casa di produzione che vuole opzionare diritti perché vuole vedere di farci un film oppure una casa editrice che vuole farci un libro o come mi è appena successo una una casa editrice di graphic novel che vuole farci una graphic novel che è una roba fighissima vabbè sorprende sempre quando firmi i contratti di cessione diritti almeno gli ultimi che ho firmato c'è che ti dicono anche c'è di per qualsiasi supporto esistente o che è ancora non inventato esatto e quindi vuol dire proprio che ti perdi per sempre e la cosa importante non puoi anche se sei un piccolo autore anche se non puoi non avere qualcuno che ti rappresenti in questo gli americani ci insegnano tantissimo e dove li trovi? un agente dici? o un agente o un agente letterario o un avvocato io ho un legale che mi segue che è una persona che io amo alla follia che mi ha contribuito a parte del mio successo perché c'è anche tanta strategia dietro c'è tanta strategia come usciamo chi diamo i diritti come ce li dividiamo che cosa perché ovviamente chi ti viene a comprare il prodotto cerca di prendersi pure la tua camicia il tuo orologio e gli occhiali perché è così che funziona invece ci serve una persona che no questi soldi non vanno bene no questo non va bene no questa è una data di scadenza no questo te lo puoi tenere solo fino a un tot di tempo e che comunque oltre a farti sembrare un po' più professionale si occupa di tutte queste menate perché altrimenti ti fregano faccio una domanda provocatoria ma questo atteggiamento e anche questa figura te la puoi permettere se sei Pablo Trincia che quindi hai già dimostrato sei un professionista tanti anni oppure diciamo un ragazzo alla prima opera dici vai comunque anche tu da un agente sì perché da noi c'è quest'idea sbagliata che è però se sono ancora nessuno mi faccio fregare faccio la figura dello sborone uno pensa così ok però guardi mi segue questa persona io non parlo di soldi potete parlare con questa persona cioè ci entri più normale sì sì ci facciamo noi più pippe queste persone servono perché poi si prendono una percentuale ma ti fanno magari prendere qualcosa di più e soprattutto ti tutelano il prodotto ti tolgono poi una sfera di sbattimenti che è creativo non ci vuole pensare non è bravo io c'ho Francesca che ogni volta arrivano i contratti no questo no questo no questo no ma servono assolutamente vabbè abbiamo temporeggiato seconda idea secondo round sono molto in difficoltà non solo perché vedo questa cosa sul tavolo che mi spaventa ma soprattutto perché a questo punto diciamo io ho un idea di podcast branded ok questa è la seconda è la seconda magari con un titolo migliore di Fugamundi che sai in quei titoli un po' che sono storpi in attimo che sono storpi in attimo secondo me è bellissimo questo lo puoi fare su OnlyFans se vuoi non li voglio più i tuoi soldi allora va bene allora diciamo caccia fuori l'idea vai allora qui diciamo il titolo è sicuramente migliore questo lo posso dire in anteprima ed è un podcast un po' particolare un podcast diciamo che appunto abbiamo parlato di soldi di agenti eccetera parliamo di brand perché esistono lo spieghiamo i podcast branded sono dei podcast che raccontano le aziende raccontano i prodotti eccetera però qual è la cosa interessante non fare il marchettone ma fare qualcosa che possa essere di entertainment che possa essere divertente ed è qui e qui a questo punto per farlo bene visto che diciamo parto molto svantaggiato lo leggo che non si leggono mai i pitch vero è sempre un po' triste però dipende mani avanti no no va bene allora io ho dovuto leggere il suo figurati no no lo so lo so allora ci siamo io non ho la musica perché sai ce li ho un po' no voglio il potere il potere delle parole la cappella immagina un podcast dove il divertimento incontra la digestione in un format di coppia davvero unico nella vecchia aerofagia i partecipanti giocano ad un esilarante gioco uno dei partner simula con la bocca un rumore di scoreggia e l'altro deve ricrearlo con un vero peto l'obiettivo capire se riescono a replicare esattamente il suono e scoprire e qui mi entra il brand capito e mi entra la parte più tutorial quali cause digestive ci sono dietro capito dal rumore della scoreggia ogni puntata unisce risate competizioni e informazioni utili sulla digestione grazie al nostro sponsor che è un farmaco contro l'aerofagia e il gonfiore tra una risata e l'altra un esperto spiega come migliorare la digestione offrendogli consigli e soluzioni per stare meglio signori vi presento nella vecchia aerofagia il working title era peto dunque sono però ho pensato che questo fosse meglio quindi per entrare in un episodio tipo 5-10 minuti 5-10 minuti un po' di coppie un po' di coppie è un po' preso da un format su tiktok molto importante che si chiama guess my fart è molto bello vi consiglio niente tu sei capito immagini la situazione classica c'è l'uomo sul divano c'è la donna che passa da lì e fa babe guess my fart e lei fa e se stavano uguali ridono quindi la fanno con la bocca? il primo il secondo la fa vera allora nella vecchia aerofagia ho fatto dire a Pablo Trincia nella vecchia aerofagia solo questo 10k allora lo presenterei cioè non ci metto però dovrei metterci qualcosa per simpatia cioè dovrei no dovrei metterci qualcosa per produrre almeno una zero da portare al brand si ok hai già in mente un paio di brand? adesso senza che li diciamo no però diciamo colossi farmaceutici che vogliono diciamo svecchiarsi un pochino hanno visto dei nuovi esempi di come si può fare la pubblicità cito Taffo una cosa molto pompe funebri diventa una cosa divertente parliamo di aerofagia parliamo di questi di questi medicinali che comunque un po' ti aiutano è un problema che poi ci possiamo ridere sopra ma è molto serio perché poi ci sono persone che ci soffrono e anche in contesti sociali è un problema serio per cui essere noi smettila di ridere Paolo Trincia perché se no è difficile per me convincerti no mi faceva ridere perché io sono venuto qui con un'idea e invece mi sembra mi sembra di essere Mark Cuban cioè è molto Shark Tank un pochino è un pochino Shark Tank cioè stavo pensando adesso mi dai il 50% di nella vecchia aerofagia e ti do per tre anni ti pago sei libero puoi fare quello che vuoi quindi questo è un po' è un po' registrato l'idea allora sì assolutamente già diciamo c'è anche punto it c'è già però però fallo fallo decidere non bombardarlo infatti hai ragione hai ragione allora facciamo così non per pietà non per pietà non voglio la pietà è talmente folla è talmente senza senso questa cosa che io e non è per pietà ok l'importante ma io dico tu fammi io intanto ci metto fammi un po' di pieti sì cioè io ti finanzio guarda ma veramente ma lo faccio con grande pietà io ti finanzio 5k per questo progetto mi fai una zero con gli straccavoli e la presentiamo al brand se questa cosa alla fine si vende facciamo che sul totale mi prendo il 20% quindi insomma comunque di fatto se lo fai bene lo piazzi deal sono molto più di 5k lo piazzo grazie va bene e allora ricapitoliamo l'uomo che sfidò al mondo 30k fuga mundi zero l'ultimo gesto 25k nella vecchia aerofagia 5k continua a condurre Edoardo 55 a 5 tempo da l'idea che ti viene su una serie su un podcast e finita pubblicata cioè tutto 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 io ci faccio anche il documentario quindi è un doppio prodotto o tu vuoi sapere solo il podcast ah ecco no questo è un aspetta diciamolo anche Rigopiano come Elisa Claps audio e video eh sì e scusami non ti ho chiesto fai tutto insieme tutto insieme registri sia audio che video e poi ok tutto insieme in totale il progetto a questo punto 8-9 mesi belli intensi e fai solo quello? sì diciamo che ti occupi soprattutto di quello poi ovviamente io faccio tante altre cose ho gli eventi in giro però sì fai molto quello è molto ti risuco una domanda tecnica rispetto a diciamo questa cosa chiamiamola bifida cioè tu parti che dici ho 8 episodi per il podcast e 2 per la docu giusto? 4-5 per la docu ok però comunque sono diciamo pezzature e andamenti diversi ok è un binario che tratti parallelamente è una cosa che diciamo parti con il podcast poi quando ti rendi conto di una linea narrativa pensi che questa andrà bene di là cioè è una cosa che fai in parallelo o fai prima una cosa poi l'altra prima una cosa poi l'altra ok in questo caso su Rigopiano per esempio Paolo Negro che è il nostro regista ha iniziato proprio parallelamente a farsi una scaletta delle puntate degli episodi in modo proprio autonomo ed è stato utilissimo lui assieme alla editor perché abbiamo lavorato io e Deborah da una parte loro due dall'altra non ci siamo influenzati questo è interessante quindi in questo modo ognuno ha lavorato al suo con con una sua impostazione ed è stato bello è stato molto utile poi dopo ovviamente ci siamo rincontrati quando c'è un'intervista si riuniscono i puntini cioè quando c'è un'intervista ci sei però ci sono dei personaggi che trovi nel podcast non trovi nella fiction e viceversa poi sulla fiction perché l'ho chiamata fiction sulla docu-serie nella docu-serie ci sono un sacco di video di salvataggi per esempio che in audio magari che in audio fai sentire pochino però a vederli ovviamente è tutta un'altra cosa quindi si prendono molto più spazio quindi ha un altro passo ovviamente la stessa storia ma un altro passo perché non è la docu-serie video esportiamo solo l'audio che diventa podcast è proprio anche sulla club avete fatto due due prodotti completamente diversi la storia è la stessa sempre voi ma devi riscrivere soprattutto devi stare attento sulla prima puntata perché è lì che ti sgamano se la fai uguale e quindi devi essere subito molto diverso a partire da un altro punto della timeline della storia devi mischiare un po' le carte sì sì non è facilissimo poi ovviamente fare prima il podcast ti aiuta perché il podcast è molta più scrittura cioè podcast sono ogni copione sono 22-25 pagine di scrittura proprio bom 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 nel video scrivi molto meno i copioni video sono 10-12 pagine quindi sono anche più brevi le puntate c'è più sintesi devi parlare meno però vieni già da un grande lavoro di scrittura quindi semplicemente io ho visto ho sentito il podcast della Claps e poi l'ho visto dopo ovviamente e sinceramente ho avuto due esperienze completamente mi sono piaciuti entrambi perché nel primo ti costruisci il mondo col tuo immaginario senti delle cose voi lo raccontavate benissimo ma ci sono delle cose che dovevi fare tu lo sforzo di dire ma che faccia c'ha ma com'è questo posto angusto nella chiesa quindi ognuno si è fatto è stato bello vedere in video perché dici alcune cose ve le conferme altre no e non è che dici ah vabbè la stessa storia te la rigodi e te la riguardi infatti non puoi fare l'operazione inversa bravissimo è vero perché se no il podcast è immaginazione l'immaginazione deve partire completamente vergine proprio immaginartela tu e poi scoprire che ah no non era biondo era moro e poi pensa che rigopiano c'è stata anche una strategia di uscita perché l'idea iniziale era di farlo uscire ad agosto però era una serie invernale fredda tu puoi parlare di caldo quando fa freddo ma parlare di freddo in piena estate visto che lavoriamo molto sulle sensazioni e sul non arriva perché in spiaggia non ti metti a sentire la valanga la neve che è meno 10 gradi quindi abbiamo aspettato il periodo autunnale ma sono stagione sono cazzatine però che alla fine ti fanno comunque la differenza sì 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 allora ultimo round mamma mia sono veramente in uno svantaggio importante però io vado io ho la terza ho la terza punto tutto sulla terza allora io siccome insomma ho portato a casa un tesoretto sono soddisfatto 55k versus 5 sull'ultima diciamo che mi lascio ci lasciamo un po' andare tanto diciamo i miei due progetti per l'anno ce li ho e le scoregge le abbiamo sdoganate per cui insommate alzerò o baserò rispetto alle scoregge chi lo sa scopriamolo podcast sulla diarrea però vabbè lasciamoci stupire questo allora un riferimento per chi è più giovane allora c'era un programma anni 2000 che si chiamava Real TV non ridere adesso ve lo faccio vedere no è un programma dove venivano mostrati dei documenti veri ripresi non ridere ripresi da telecamere di sorveglianza di incidenti tipo le dash cam di adesso su youtube erano tutte elicotterate sì tutto dall'alto Real TV e c'era una presentatrice Inette Stevens ve la faccio vedere quando in un luogo arido piove tanto e a lungo è naturale vedere questo fenomeno come una benedizione no la mia idea è di siccome ha avuto molto successo io farei un remake lo attualizzerei ok lo riporterei insomma con una voce calda e niente una bella voce maschile con una bella però sempre con questo format qui con lo stesso tono però perché solo per vedere si è scappando allora io io ho preparato un paio di lanci per possibili te li passo sono situazioni come era a Real TV di 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 cioè se tu metti soldi su sta cosa aspetta aspetta fagli fare vai allora qui partirà la musica è uno dei lanci del Real TV 2.0 che è il mio nuovo format vai nel prossimo video vedremo un'automobilista che pensano di essere a riparo da sguardi indiscreti se concede un'esplorazione nasale ad un semaforo adesso vado avanti come Pablo Trincia la scena colta da una telecamera di sicurezza rivela un gesto intimo che mai avremmo dovuto vedere riuscirà a estrarre il bottino prima che scatti il verde il semaforo è rosso ma il dito è già in posizione prepariamoci a questa spedizione nelle profondità nasali che dire ma io ho paura che se glielo portiamo questi mi ci guardano e ci dicono ma è Real TV cioè nel senso che il network ci dice lo facevamo 25 anni fa però con Pablo Trincia ah io io vabbè scusa anche il mio format sulle scoregze allora con Pablo Trincia ma che c'entra qui è la voce guarda io mi sento bene se non ti sentire no non esploriamo non ti ho preso Real TV 2.0 no che già 2.0 mi è vecchio come concetto no purtroppo diciamo che ti porti a casa per ora in 55k a meno che però perché adesso questo sfoderà l'idea del secolo e io a quel punto potrei potrei dire facciamo l'investimento mister Favot I don't know allora chiederei la possibilità di leggere proprio per valorizzare al massimo questa mia idea se è possibile mi è concessa no leggere non servono le cuffie leggere in generale e questa è una docu fiction quindi video ma con un twist che però ti racconto dopo sono 8 puntate ok e inizia così questa è l'esplorazione di un diciamo uomo che sono io che un giorno ha letto questa cosa e vuole indagare e i primi 4 episodi indagherà su questa cosa viaggiando in giro per il mondo diversi esperimenti condotti tra gli anni 70 e gli anni 90 hanno dimostrato che se migliaia di persone praticano all'unisono la meditazione trascendentale per un lungo periodo di tempo in un dato luogo i livelli di criminalità nell'aria diminuiscono fino al 23.3% il fenomeno è conosciuto come Maharishi Effect dal nome del fondatore della meditazione trascendentale Maharishi Mahesh Yogi famoso mistico filosofo e guru indiano oltre 700 pubblicazioni ufficiali indipendenti hanno comprovato con dati gli effetti di questa meditazione di gruppo effettuata non solo negli Stati Uniti ma ad esempio in Libano durante il conflitto io parto molto scettico ma arrivo a pensare che questa cosa potrebbe anche essere vera e qui cambia la docu fiction perché diventa una cosa abbastanza vera perché poi Maharishi cosa dice? dice che secondo lui se la radice quadrata dell'1% della popolazione mondiale praticasse il suo metodo di meditazione potremmo ambire a cambiamenti sostanziali nei pensieri e nei comportamenti di tutti e allora da 5 a 8 cosa succede? che io ho fatto un calcolo e se oggi ci sono 8.2 miliardi di persone nel mondo la radice quadrata dell'1% della popolazione è 9.055 che è anche il titolo del mio progetto il working title e quindi in questi ultimi 4 episodi cercherò 9.055 persone che vogliono meditare durante il prossimo G8 per far sì che queste persone prendano decisioni che vadano verso le cose buone e non verso le cose cattive ok allora mi sembra tutto molto interessante originale e bello e dinamico però meritano per che cosa? per ottenere che cosa? di preciso cioè deve essere ben definito perché se no poi al G8 viene fuori ti dici come fai a valutare se ovviamente l'esperimento è riuscito o meno chiaramente lo devi valutare un po' più avanti non finisce il racconto non finisce ma qual è il parametro che valuti? no no certo questo va capito devi portare a casa che stanno per votare quella cosa e non la votano stanno per votare quella cosa e la votano ti propongo una cosa io certo ti metto invece non troppo sei zitto? no no non troppo ti metto però un 30k vabbè su un progetto come lo chiamerebbe scognamiglio anagolo no ti metto 30k a disposizione se tu mi fai una cosa che io un vecchissimo documentario che ho visto anni fa meraviglioso sulla vipassana che è la meditazione silenziosa dove nel carcere di Tihar a Nuova Delhi questa direttrice del carcere decide di adottare questa pratica del vipassana che è 10 giorni di meditazione silenziosa totale devastante e che la fa fare sia alle guardie che ai detenuti in modo da abbattere il problema della eliminare il problema della violenza all'interno del carcere allora quella è una cosa dove se tu riesci a farmelo filmarmelo farlo in qualsiasi carcere qua al peggio posto in Italia dove un maestro anche indiano anche italiano lo porta anche una persona carismatica bella lo porta dentro al carcere e lo fa coi carcerati i carcerati si prestano a farlo perché in cambio gli danno delle ore libere in più quindi hanno un incentivo proprio a farlo inizialmente uno scambio assolutamente e dopo fai vedere la trasformazione allora lì è una cosa che avviene in un contesto molto più è molto più fattibile parametrabile misurabile e dove tu vedi un risultato e che alla fine caro produttore se posso replicare questa sua ottima idea devo dire non lo dico perché lei ha i soldi in mano non lo dico perché ci credo veramente però noi abbiamo avuto la fortuna di diciamo avere tra i nostri ospiti Daniel Lumera che è diciamo un biologo esperto di meditazione italiano che ha fatto un esperimento identico a quello che hai fatto tu non filmato e che lui però replica in tutte le carceri italiane in un carcere femminile questo carcere era molto violento e dopo che ha diciamo insegnato a meditare ha aperto una sala di meditazione sia per i carcerati che per diciamo uso questa parola bruttissima i secondini ma ci siamo capiti sono passati da quarantun diciamo note di appunto di violenza in sei mesi episodi di violenza sia appunto di a una e quindi questa cosa si può fare abbiamo quindi a questo punto si sta portando la persona giusta per farlo e lui è un bel personaggio lui è un personaggio incredibile è proprio un personaggio che arriva sì arriva eccetera però non più di tre decide lui non è che io su un documentario così ti metto ti metto 30k perché già mi piace di più mi piace l'idea della meditazione perché comunque sfida un po' il mondo in cui viviamo va in controtendenza risponde al mondo in cui viviamo se c'è una persona carismatica se c'è un luogo definito se ci sono dei bei personaggi poi il carcere oltretutto vedi la gente vera vedi non la gente vera però vedi proprio la sofferenza vera e quindi lì vedi anche l'impatto che questa cosa ha proprio sulla sofferenza è tutto più evidente per cui mi piace molto lo spunto molto bene e allora i pitch sono finiti conduce ancora Edoardo con 55k Federico 35k ma ora Pablo ha la possibilità di fare uno spostamento ribalterà la partita io sono fiero di questi 5k sull'aerofagia che mi porterà a casa come le carriere si macchiano più riguardo quei 5k le carriere si macchiano con i gesti vuoi che li metto di qua sai che però i 5k sull'aerofagia ma sapete che una volta Paolo Ortrini ci ha messo 5k e quell'altro gli ha fatto il trailer guarda facciamo una cosa vuoi fare degli spostamenti esatto puoi fare degli spostamenti allora senza cioè senza offesa però veramente ti ti dà un fastidio è un po' facciamo così uno spostamento puoi fare sta pensando ho una carriera io no no io metto questi 5k facciamo e mettiamoli sull'ultimo gesto così ci portiamo a casa anche la color correction dell'episodio vabbè facciamo facciamo le cose fatte per bene ci mettiamo le musichette i titoli finali alla fine è un 60-30 insomma io mi porto a casa il progetto che faremo veramente con 60k a 30k vince Edoardo facciamo un applauso facciamo un applauso bello bello molto bene molto bene mi dispiace che sono stato un po' taccagno li vuoi portare a casa li vuoi portare a casa pensava che poteva questi ricambio in casa in casa io ho una domanda da farti se la persona sta guardando questa puntata e dice ma mi piacerebbe proporre un'idea a Pablo qual è l'ampo il canale la modalità un po' c'è già risposto però lo chiediamo sempre alla fine della puntata canale e modalità più efficace per arrivare a te esattamente come faccio io quando cerco le persone mi devi parare davanti ah ok quindi butto lì c'è un evento in cui stai parlando vado lì all'evento e ti fermo quando mi viene a stringere la mano il tempo che ci stringiamo la mano e ci facciamo una foto mi hai raccontato il pitch e io ti ho guardato così e ho detto eh qualcuno ti aveva messo le cuffie una volta mi aveva raccontato sì una ragazza mi aveva no non mi aveva messo le cuffie no una ragazza mi aveva fermato fuori da un evento e mi ha detto io ho il podcast che ti devo far sentire eh io c'avevo dieci minuti dico dove ce l'hai c'è sul telefono sì sentiamo fammelo sentire ah fantastico glielo ho fatto sentire no devi stupirmi devi volerlo veramente tanto cioè sulla mail così sì però persona sì e tu che storie stai cercando adesso sono a Rigopiano libro no cosa stai cercando cosa stai adesso io sto cercando un'altra storia sempre comunque per sky perché devo devo produrre un altro progetto sempre podcast e docu-serie ma io mi sto buttando molto sui live sugli eventi perché abbiamo bisogno di quello abbiamo bisogno di stare insieme abbiamo bisogno di hai fatto le letture ho visto abbiamo fatto le letture però ho proprio visto che c'è tanto bisogno di di comunità di stare seduti anche di fare ascolti collettivi l'altro giorno a Roma abbiamo fatto l'ascolto della puntata a sud di Rigopiano in questa in questa mega sala tutte le sedie no tipo cinema solo che non guardavi niente stavi seduto così non guardavi nulla ascoltavi sì sì la gente è così per 45 minuti è bello però però è una dimensione bella perché poi sei fuori poi magari bevi una cosa vai a cena abbiamo bisogno di storytelling questa è la golden age della stand up comedy perché perché c'è bisogno di quella roba lì c'è bisogno di di scoprire quella roba lì no vuoi fare stand up comedy magari no io glielo dico mi piacerebbe da morire se lo conosci anche perché è scrittura però è un pirla dovrebbe farlo cioè quell'aspetto tuo lì che devi tirar fuori però io no un giornalato devi impazzire fare no ma allora a me piacerebbe tantissimo raccontare una roba comica non cioè fare una una come potrebbe una una serie sì una serie che fa ridere ma una storia vera ok cioè tipo quello che si è inventato prendete appunti anche qua uno prende appunti ok secondo me una cosa così sarebbe figa cioè come quella che volevo fare io con Sandra Milo quella su su Ciro io volevo beccare la no raccontaci no questa era bellissima io le ho accettuto mi è venuta l'idea di ti ricordi vi ricordate la scena Ciro gravi gravi chi Ciro dove oh Ciro il 1990 Sandra Milo sta presentando questo programma mi sembra sulla Rai c'ha ospiti due o tre ospiti tra cui un giovanissimo Alessandro Gassman in studio classico programma del pomeriggio così a un certo punto arriva una telefonata Sandra ma che fai tuo figlio si è fatto male e lei Ciro oh Dio oh Dio oh Dio c'è questa scena epica che tutta l'Italia ha visto e tante generazioni hanno visto ormai perché strisceranno oltre inizia è un meme totale blob l'hanno fatta rivedere un milione di volte e quindi è diventata proprio quasi un pezzo di storia della televisione un'esperienza collettiva un po' come tutti abbiamo visto la luna tutti abbiamo visto Ciro io ho conosciuto Sandra Milo quando l'ho intervistata per sangue loro perché lei era una testimone che si trovava a Fiumicino durante l'attentato dei ragazzi palestinesi e a un certo punto gli ho detto tra una pausa gli ho detto Sandra ma chi era poi che ha fatto sta telefonata che era uno scherzo era uno scherzo di una donna una donna che al telefono ha fatto sta roba e lei mi ha detto perché a me piacerebbe tanto scoprire chi era no ma sai proprio fare team investigativo fare il team investigativo e lei mi ha detto che praticamente la come si chiama la procura di Roma aveva fatto un'indagine e aveva scoperto che quella telefonata era partita da un ufficio dell'Alemagna a Roma in via del Corso dove lavoravano 26 donne no è già una storia e io gli ho detto cioè ti prego ma dove trovo sto documento perché ci saranno stati nomi perché a me basta trovarne due o tre e di ma chi è stato dopo 30 anni te lo raccontano solo che poi lei non ce l'aveva oppure non bisognava chiedere non mi ricordo l'avevano archiviata però ecco quella era e poi purtroppo era venuta a mancare però vedi una roba così va fatta c'è una roba pop divertente dove dentro ci metti un'indagine che magari sono 4-5 puntate che poi alla fine magari ha anche un twist bello empatico perché poi Sandramino diceva io sta persona la vorrei anche conoscere per salutarla sì perché l'ho perdonata è bello però l'indagine su queste tipo Wind of Change tipo Wind of Change sì il podcast che parla della canzone scritta dalla CIA per pantare un vento diverso e l'indagine che sono su me le robe più difficili sono le cose più difficili sono anche le cose più originali più belle perché sai fare crime fare le tragedie non ti dico che è facile perché comunque ha una sua complessità però comunque caschi sul sicuro perché comunque sai che le persone andranno a sentirse le andranno a vedere però è una storia divertente una storia buffa una storia che ti intrattenga ti faccia ridere ti faccia voler capire come va a finire quella cosa di raccontare per un pezzo d'Italia comunque ci metti la cornice non è una cosa che ridi fino a se stesso vedendo se ho altre idee da giocare no ma non voglio ti porti a casa questa vittoria meritata io sto a mettere le sconfitte guarda che però quello del quello del carcere se lo sono riusciti a fare è bello bello grazie Pablo grazie mille ti è divertito ti è piaciuto? molto dai mi è piaciuto molto no brainstorming è sempre aria non dire aria no esatto è aerofagia grazie Pablo ciao grazie ciao ciao questo è Idee da Incubo ciao ciao ciao